Bentornati ragazzi qui da Diego in questo nuovo video su Yu-Gi-Oh! Master Jewel Oggi parliamo nuovamente di un problema del gioco A dire il vero di questo problema avevamo già parlato due settimane fa qui sul canale Ma non è cambiato nulla all'interno del gioco, anzi la situazione è solo che peggiorata Parlo ovviamente del problema relativo ai bot Ai bot che servono per farmare le gemme e che molto ingenuamente molti di voi potrebbero pensare Ma sì chi se ne frega non ti tolgono niente a te Non funziona proprio così però ecco vediamo insieme che tipo di bot è questo Prima di tutto iniziate a mettere subito sin da subito un mi piace per supportare il canale E iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Io stream ogni giorno su Twitch quindi il link lo trovate in descrizione E nulla venitemi a trovare Allora attualmente io non ho penso nessuna partita Dove vi posso far vedere il bot in sé in azione qui sul mio account Penso di non averlo ecco Possiamo controllare insieme questa Drytron Questo invece aveva tribligata insomma Penso di non avere nessuna partita salvata Poco male vi risparmio semplicemente una grandissima sofferenza perché Si tratta appunto del bot per andare a farmare chiaramente gemme e quant'altro Questo era il bot della volta scorsa Quello con ovviamente banchetto dei milioni che banna il vostro extra deck per poi andarvi a fare esplosione di ID E possiamo anche dire che questi bot si sono un attimino evoluti Poiché mi pare sia esatto con il contratto di Dawn Thousand Dice infatti che entrambi i giocatori perdono 1000 life points Quando viene attivato E ciò sta a significare che anche se voi andrete a usare 13 carte nell'extra deck Ovviamente basterà comunque avere 13 carte per Anzi bannarvi 13 carte per andarvi a fare FTK Ovvero first turn kill Questo invece aveva Grand Magu Insomma deck molto variegati E tra l'altro mi piacerebbe rimanere qui con i deck ben variegati E abbiamo fatto una prova Eccone un altro per esempio diverso da quello di prima Abbiamo fatto una prova vedendo quanti deck trovassimo in 10 partite E li abbiamo trovati praticamente tutti diversi, tutti differenti E ora invece ci troviamo con questa schifezza Cos'è questa schifezza? Non è altro che l'ennesimo mazzo per fare first turn kill Ovvero nemmeno far giocare l'avversario e fargli subito burn damage Andando a sfruttare ovviamente un bot Questo è molto più complicato dirvi la verità rispetto all'altro bot Nel senso lo script per far girare questo mazzo Come vedete con più carte diverse è letteralmente più complicato probabilmente Ma sappiate appunto che con un bot è possibile far giocare questo mazzo A un programma In modo tale che appunto questo programma vada a farmarvi le gemme Che vi vengono date ovviamente dopo aver vinto una partita Se vincete la partita secondo alcuni criteri ovvero magari facendo appunto vittoria rapida Vittoria nel primo turno, vittoria facendo danno da burn Quindi essenzialmente danno da effetto Andrete a prendere più punti Più punti che significheranno più possibilità di droppare tante gemme Ovviamente il drop di gemme va da una gemma a 50 E se beccate appunto il roll giusto da 50 gemme siete mega super fortunati Come funziona questo deck? Innanzitutto c'è da dire che è più facile da bloccare rispetto all'altro Perché vi basta un Ash Blossom ben tirata E letteralmente lui si ferma Però sappiate che funziona andando a piazzare la sua scala pendolo Per poi andare a prendersi il Cavaliere Sublimazione Che è proprio questo qui vicino al Reinforcement of the Army E lui insieme al Squeak andrà a fare il buon e caro Alkifibrax Oppure Isolde dipende Il suo fine ultimo diciamola così è avere Cyberstein In modo tale da cambiargli il tipo grazie a questa magia qui E anzi andargli a cambiare il tipo con Reproducus Equipaggiargli questa magia qui psichico Che dice che i mostri psichico non devono pagare life points Per attivare i loro effetti essenzialmente Quindi Cyberstein non essendo once per turn Va a fare fusione fino a 4 o 5 volte Senza pagare i 5000 life points Ciò sta a significare che non solo vi porta l'usignolo qua il Nightingale Che fa danno come saprete da effetto Ma vi porterà anche magari Anzi porterà a loro perché voi questo deck non lo dovete fare Non lo dovete usare Porterà anche il Re Supremo La fusione Vento Strega dovrebbe essere questo E anche i due DDD Che andranno a copiare il nome di Nightingale a usare il suo effetto Loro copiano letteralmente l'effetto Il nome di Nightingale e possono utilizzare ancora una volta Il suo effetto di fare danno da appunto Effetto Burn Damage Un deck sicuramente più complicato rispetto all'altro da usare Ripeto perché non devi flippare Banchetto dei milioni e la bomba Però sotto un altro punto di vista Un pochettino pure più facile Da anzi più efficace non facile Ecco la parola che volevo usare è efficace Questo è sicuramente più sicuro rispetto all'altro Anzi è proprio un deck che già tanti conoscevano Che veniva usato Non è un deck nuovissimo ecco Però mi dà fastidio sempre vedere le stesse cose su questo gioco Perché vi ripeto ancora una volta Siamo al quarto mese Tra 15 giorni sarà il quarto mese di gioco Ufficialmente E mi dà fastidio il fatto che Konami Oltre a non avere ancora aggiornato il gioco Usceranno domani le carte nuove E si parla solo di carte nuove Perché probabilmente la banlist non arriverà Poiché la season è già iniziata Le nuove carte Sì arriveranno per forza Sono state annunciate Però appunto Non arriveranno i nuovi rank Perché la season è già stata avviata Quindi probabilmente si parla per la prossima Dei nuovi rank E nulla Ci troviamo veramente a un punto di stallo Perché ora nelle ranked Troverete solamente questi bot Soprattutto ovviamente da platino in su Quindi Boh Veramente non so cosa dirvi Il gioco Se prima era bello Ma gli sviluppatori non si applicavano Adesso è proprio un gioco tedioso Da andare anche solo ad aprire Per molti di voi immagino Io lo faccio perché anche Giustamente ci produco contenuto Ma immagino un utente qualsiasi Che apre il gioco per farselo su partita E trova tre botte di fila Ma cosa dovrebbe dire questo utente? Ovviamente il gioco lo molla Oppure ancora peggio Pensa Che questi deck siano Efficaci Quindi si arriva a craftare Non lo so È strano 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 Come Non stia avvenendo nemmeno Non so dirlo in italiano Ma Non so dire in italiano Non so dirlo Strano come non stiano Riconoscendo questo problema Ecco Mi è venuto Strano 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 Spero solo che Aprano gli occhi Perché siamo A più di tre settimane ormai Che girano questi bot E non è ammissibile Non è veramente ammissibile C'è gente che in tre settimane Probabilmente si è fatta 15.000 gemme Se non di più Non so Cosa dirvi Detto ciò ragazzi miei Fatemi sapere qui sotto Con un commento Cosa ne pensate Iscrivetevi se ancora Non l'avete fatto E mi raccomando State lontani Da questi Bot Perché veramente Sono di una Palla assurda Iscrivetevi se ancora Non l'avete fatto Io mi trovo sempre In live su twitch Quindi venite a fare un salto E nulla Qui da DiegoB per oggi È tutto Noi ci vediamo ovviamente In un prossimo video Ciao ragazzi miei